Il mio nome è Fabio Palumbo, sono qui per conto di Brico Floritalia e il mio compito è quello di gestire il lato commerciale di questo start-up, di questo e-commerce. Il corso è molto tecnico, è anche un corso molto facile da capire, anche per chi è agli inizi nel settore, un po' come me. Sicuramente è un corso che aiuta molto a farsi un'idea su tanti punti che magari sono un pochino meno conosciuti o meno, insomma, dove si riesce ad avere meno informazioni anche in ambito internet, su internet in generale. Ma la cosa che più trovo interessante è come tramite questo corso si può imparare a strutturare per bene un e-commerce e anche come automatizzare il tutto. Sicuramente lo consiglio anche perché c'è tanto modo, appunto, come già detto, di apprendere tanto e anche di strutturare bene il proprio e-commerce. C'è proprio un modo per capire al meglio come ottimizzare e risparmiare.